Ciao a tutti da Vila Nova, oggi primo giorno a C-War Series che purtroppo è rinviato a domani per quanto riguarda le regate. Oggi tanta pioggia, pochissimo vento, siamo andati fuori, abbiamo provato a essare le vele, poi il comitato di regata ha deciso di rimandarci a terra perché non c'erano le condizioni minime per poter regatare. Adesso abbiamo la barca in banchina, i ragazzi stanno occupando di riprepararla per domani, la rimetteremo qui davanti alla nostra base e ci prepariamo alle regate di domani.